Buongiorno a tutti, sono Roberto Cicurto, Presidente della Biennale. Felice Presidente della Biennale che conclude, non il Festival, ma con questa premiazione a queste due meravigliose leonesse, un hitter straordinario iniziato in un anno così difficile. Avrei tanto voluto essere assieme a voi oggi, in quest'occasione festosa, a me così cara. And now, Leone Targento a Claudia Castellucci. La rappresentazione del mondo, anche in una condizione di solitudine essenziale o assoluta, continua a essere compiuta in un modo segreto da persone misconosciute, e proprio questo è misterioso. Leone Dora la carriera a La Rimo. Con questa pandemia, stiamo vedendo artisti senza lavoro, stiamo vedendo artisti senza futuro, artisti semigranti, artisti semplici. Eccolation di giocativi wherever alle persone, algunas persone che dicono, e scrisi semplicemente a perdere l'ascoltura. Monstera... che bonita ci sono figuras, che bonita ci sono dorados, perché vogliamo avere la sua erpa e la carne. Disponiamo di un tempo maggiore rispetto alle persone che fanno altri mestieri per stare in allerta rispetto a quello che si muove attorno. Alla prossima Grazie